Le oloturie, o cetrioli di mare, sono degli echinodermi, quindi parenti delle stelle marine. Sono animali bentonici, vivono quindi sul fondale. Sono i più importanti detritivoli dei fondali e delle scogliere, ed hanno due caratteristiche. Sono in grado di eviscerare, cioè espellere, il loro intestino, i polmoni e l'unica gonade, per poi rigenerarla, questo per difendersi e per distrarre i predatori. E sempre per difendersi, espellano dall'ano dei lunghi filamenti appiccicosi che invischiano i predatori.